Apri una mano, apri una mano, apri una mano, fai vedere la mano nera da lavoratore, bravo! Allora, la donna non ha la firma, vedete che non ha la firma? La mano è nera, si vede, ma basta fare uno, due, tre, The Very Incredible Magic Applauso! Magnissimo! A te, a te, allora, guarda, guarda. E' male, va pure la firma però. Allora, vedi che c'è la tua firma qui, facciamo vedere, che non è che... E' la tua? Sì? No! Allora, tu per ogni mani zoni, beviti il succo, lo fanno vedere. E' la tua, la tua. Allora, aspetta, vedete la firma? Io ora la metto così, in mezzo al mazzo, vedete? Tu metti la dove vuoi, basta che te la ritrovi. Adesso basta fare così e lei sale in cima, vedete? Aspetta, lo rifaccio, lo rifaccio, lo rifaccio che magari non hanno visto bene, guardate, la mettiamo in mezzo così, ok? Ok? Poi faccio così e lei sale, vediamo se sale... Vattene, vattene! No, 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 scusate. Ci va proprio il fluido magico, vedi? Ci va un po' il bozzo, sì. Ma aspetta, aspetta! Guarda, perché magari non hai visto bene, guarda. Lo faccio all'alentatore, guarda. Uno, due, tre, fluido magico e lei è ben incredibile, sale, è incredibile. Ma aspetta, aspetta, voglio fare la posa ancora più difficile, ancora più difficile. Aspetta, aspetta, poi lo fai io, poi lo fai io. Faccio magia. Poi vai tu, aspetta che tocco prima te. Vai al piccolo mago, vai al piccolo mago. Allora, adesso guardate, voglio fare di più. Oltre che è firmata la carta, oltre che è firmata la carta, guardate, la piego. Guardate, guarda, guarda, l'ho piegata, vedi? Hai piegata? Guarda, vieni a vedere, vieni a vedere, attenzione. Attenzione, guarda, è piegata, guarda. Allora, facciamo così, guarda. La metto in mezzo piegata, vedete? Adesso attenzione. Uno, due. Sarebbe incredibile Maggi! A vostro applauso, grazie.